I gruppi consiglieri di opposizione al Comune di Pescara chiedono le dimissioni in massa del sindaco Carlo Mascio e della sua giunta. Le motivazioni spiegate questa mattina in conferenza stampa a seguito dell'operazione della Guardia di Finanza. Avevamo segnalato da tempo, fa notare Piero Giampietro, capogruppo del PD, di comportamenti anomali all'interno di quell'ufficio, ma il sindaco non ci ha mai voluto ascoltare. Trisi era l'uomo di fiducia di Mascio, aggiunge Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle e considerando che le indagini vanno avanti da più di un anno ci chiediamo come mai il sindaco non si sia accorto di nulla. E sullo coinvolgimento poi della Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri interviene il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Io ritengo che quando vi siano queste inchieste, anche con arresti eclatanti di dirigenti importanti, e nell'inchiesta si parla anche di coinvolgimento di alcuni esponenti della politica locale, necessariamente il Consiglio regionale o il Consiglio comunale deve fare un consiglio straordinario per parlare di cosa sta succedendo. Queste cose danneggiano l'immagine delle amministrazioni comunali e regionali, ma soprattutto l'economia locale, perché adesso si parla in Italia di questo fenomeno. Ma sono tante inchieste, negli ultimi anni abbiamo assistito a tante inchieste sulla pubblica amministrazione. Allora io che vorrei fare, e cerco di fare un'anticorruzione militante, vorrei che si istituissero anche degli uffici spettivi all'interno delle pubbliche amministrazioni, in questo caso di Regione Comune, per cercare di far chiarezza, arrivare prima dell'autorità giudiziaria. E sulla vicenda che riguarda Lorenzo Sospiri e lo stesso Presidente del Consiglio regionale, a chiarire in un comunicato stampa. Il fatto contestato, dice Sospiri, riguarda una manifestazione pubblica organizzata in uno spazio privato, non a uso esclusivo, con i cittadini con i quali abbiamo svolto delle riflessioni politiche in vista della campagna elettorale in corso. Una manifestazione che ha visto la presenza di altri candidati. Per quanto potessi sapere, la manifestazione non prevedeva un costo e nessuno infatti mi ha chiesto un pagamento, al quale altrimenti avrei senza dubbio provveduto personalmente. Durante l'evento non ho chiesto contributi elettorali, non ho chiesto che si organizzasse la stessa manifestazione elettorale alla quale sono stato invitato, al pari degli altri, e soprattutto non ho chiesto che qualcuno pagasse per me. Tra le carte dell'inchiesta anche i lavori sull'asse attrezzato. argomento questo già toccato dal senatore Luciano D'Alfonso mesi addietro, no? Sempre rilevato come prima discussa e poi discutibile la procedura sull'allungamento dell'asse attrezzato, per il quale allungamento io ho lavorato con l'allora Ministro dei Lavori Pubblici del Rio e con l'ANAS per avere 15 milioni di euro nell'accordo Regione-Stato. Quei 15 milioni di euro servivano per allungare l'asse attrezzato a favore del porto. Siccome il progetto venne rivisto e anche reso minimale, c'erano economie per quasi 9 milioni di euro. Quei 9 milioni di euro non dovevano, né devono, essere utilizzati per demolire la cosiddetta trombetta all'altezza della circunvallazione in corrispondenza della direzione di marcia per Francavilla. Perché quel tipo di demolizione, se serve ai proprietari delle terre, che sono lì in pertinenza, se la pagano i proprietari di quelle terre, non deve essere il Comune di Pescara. Invece quelle economie pari a 9 milioni di euro dovevano entrare in un salvadanaio per immaginare, progettare, funzionalizzare e realizzare un nuovo svincolo a Colle Caprino, che ha un costo di 25 milioni di euro. Si partiva con questo salvadanaio e poi si trovavano gli altri 16 milioni di euro facendo il lavoro che solitamente fanno le pubbliche amministrazioni. Non ho mai capito perché c'era quella determinazione, spero non sia stata la conseguenza di un caffetteggiare insieme. Ho molto apprezzato la nota della Guardia di Finanza che nell'ultimo rigo scrive che naturalmente i procedimenti penali devono essere poi validati attraverso i confronti tra le parti del processo. Certo, quello che è grave è quello che si descrive nella condotta individuale. Mai era accaduto a Pescara che addirittura la cocaina intrasse all'interno dei fascicoli delle opere pubbliche. Io non credo che la nuova Pescara debba essere la grande cocaina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.